Allora, buona la prima, è stata una partita intensa che si è risolta davvero negli ultimi secondi? Sì, sapevamo che Veroli è una squadra guerrita, è al nostro livello, perciò sicuramente la prima partita, molti dicono che è quella più importante, però sicuramente era quella dove siamo magari un po' più nervosi perché venivamo da 6-7 giorni di inattività, nel senso dove abbiamo giocato la partita, mentre loro hanno giocato l'ultima mercoledì, anzi no, mercoledì domenica e niente. Si è fiusa bene per noi, siamo contenti. Sostanzialmente siete riusciti a sorpassarli negli ultimi 5 minuti, quali sono state le maggiori difficoltà in questa partita? Sicuramente non siamo riusciti a giocare bene, soprattutto in attacco e anche in difesa abbiamo fatto fatica a prendere le misure. Nel quarto quarto siamo riusciti a difendere meglio, però comunque i primi due quarti abbiamo fatto 10 palle perse che sono troppe per una partita di play-off. Qualche rimbalzo di troppo ceduto agli avversari? Sì, sicuramente abbiamo lasciato troppi secondi tiri a loro durante la partita, perché loro comunque sono grossi, vengono tutti quanti a rimbalzo. Insomma, dobbiamo aggiustare due o tre cose per gara 2. Poi sei entrato tu, hai dato il supporto durante tutta la partita, sei stato un uomo chiave in questo match. Ma io sono contento di dare il mio contributo, saprei farmi trovare sempre pronto. La serie è lunga, abbiamo bisogno di tutto, insomma, anche chi magari non ha giocato più le altre partite, insomma, è una serie lunga. Sappiamo che nelle partite dei play-off, soprattutto quando si arriva verso la fine, i riflettoni sono puntati anche e soprattutto sull'arbitraggio. Ci sono state delle situazioni molto particolari in questa partita. A fine match c'è stato il coach avversario che è andato a parlare con gli arbitri, perché secondo lui nell'ultima azione c'era un fallo. Sai, io posso capire il coach perché quando perdi una partita di un punto recrimini su ogni cosa. Noi lo dovremmo recriminare su due falli, uno soprattutto su Alvin, in contropiede. Sai, a noi è successo molte volte quest'anno che alla fine delle chiamate degli arbitri ci hanno cambiato la partita in negativo. Noi dobbiamo pensare soltanto a noi e non a quello che succede fuori o attorno. Un palazzetto caldo in tutti i sensi. Dovrete sicuramente recuperare le forze in brevissimo tempo, visto che tra meno di 48 ore sarete una volta qui sul palchetto del Tagliarcio a sudarvi la seconda gara. Sì, infatti è per questo che è importante che tutti quanti siano pronti, che ha giocato più, che ha giocato in meno. E niente, poi i tifosi fanno questo clima caldo ormai da ottobre, perciò ci siamo abituati al caldo no, ma al loro calore sì.